Il buon caffè all'italiana si riconosce dall'aroma. No! L'aroma del buon caffè all'italiana si riconosce in MyMoka Induction. Il processo è lo stesso di sempre. Affascina e conquista ogni tazza. Ma MyMoka è la vera rivoluzione. Dentro alluminio, fuori acciaio. Nessuna magia, ma anni di ricerca, test e profonda conoscenza ci hanno consentito di arrivare a MyMoka Induction. Abbiamo rivestito in acciaio la caldaia per consentirne l'utilizzo anche sul piano a induzione e perfettamente accoppiato i materiali, creando la caldaia in bimateriale. L'acqua è a contatto solo con la superficie in alluminio, lasciando invariato l'aroma del caffè. I particolari in silicone mettono in accordo la superficie opaca del contenitore in alluminio e la lucentezza della caldaia in acciaio. Il sistema sfrutta la geometria dello strato esterno per rendere più efficace l'induzione. Abbiamo rivoluzionato il concetto di Moka, un'intuizione geniale che ci appartiene. MyMoka Induction è la prima Moka adatta a tutti i piani di cottura. Moka Induction è la prima Moka.